Buonasera, buonasera a voi. Allora, ieri in tarda serata ho avuto modo di ascoltare le notizie sulla radio e in particolare una notizia mi ha ispirato, mi ha ispirato questo video. Ora, la notizia è questa. Un giudice ha respinto il ricorso da parte del consorzio Aceto Balsamico di Modena avverso l'utilizzo da parte di un'azienda tedesca che sulle proprie etichette scriveva Aceto Balsamico. Il giudice ha ritenuto di non dover intervenire che il fatto che venisse usato il termine Aceto Balsamico non poteva costituire reato e che quindi era assolutamente lecito. Ora, lasciando chiaramente tutti estremamente esterefatti di fronte a un giudizio di questo tipo che sicuramente a livello non solo economico ma soprattutto di immagine danneggerà fortemente il consorzio Aceto Balsamico di Modena che tutti quanti sappiamo essere un fiore all'occhiello per quanto riguarda la produzione italiana. Ora, questo viene dopo numerosissime situazioni che abbiamo avuto modo di constatare in questi anni dove i prodotti italiani non sono stati assolutamente difesi da parte dell'Unione Europea. Uno dei più clamorosi riguarda il Parmesan venduto in gran parte d'Europa una contraffazione bruttissima del parmigiano reggiano per non parlare di altri prodotti tipo il pecorino sardo, il pecorino romano tipo ad esempio anche l'olio extravergine d'oliva insomma delle contraffazioni che hanno gravemente danneggiato la nostra economia anche in altri settori, ad esempio nel settore manufatturiero, nel settore del tessile nel settore della moda dove ci sono in tutto il mondo imitazioni che ovviamente, è facile capirlo, portano alla perdita di centinaia e centinaia di miliardi di fatturato ogni anno per la nostra economia. Noi giustamente tanto ci dobbiamo dolere del fatto che l'Italia non riesce a crescere che l'Italia è in una situazione economica difficile anche per quanto riguarda le esportazioni che sono in calo nell'ultimo bimestre ma è chiaro che se poi ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo diventa assai difficile poter in qualche modo far partire la crescita stessa. Ora, la domanda che appunto mi sono posto facendo così un escursus di questi vent'anni dell'Europa Unita quali siano i reali vantaggi che il nostro paese ne ha potuto trarre dal fatto di far parte dell'Unione Europea? E chiaramente, facendo questa analisi, c'è davvero ben poco da salvare. Anzi, io credo che davvero l'Italia sia stata fortemente penalizzata in tantissime situazioni come quella che vi ho appena descritto ma immagino anche altri settori tipo quelli dell'agricoltura dove noi, come sappiamo, siamo costretti a buttare ogni anno tonnellate di arance e di olive perché così lo impone l'Unione Europea acquistarle dalla Turchia e dalla Spagna prodotti che sono sicuramente da un punto di vista qualitativo molto peggiori di quelli italiani quindi non solo dobbiamo buttare tonnellate di prodotto ma dobbiamo anche limitare la nostra esportazione che ci porterebbe fatturato Ora vedete, quest'Europa ogni qualvolta, come capita adesso ad esempio nel Messe l'Italia magari avrebbe qualche interesse a non aderire anche perché come vi ho spiegato in questi giorni 125 miliardi sono una montagna di soldi dei quali noi 60 miliardi li abbiamo già versati che ci avrebbero permesso di fare tantissime cose ci avrebbero soprattutto permesso sicuramente di mettere in moto questo paese perché avremmo potuto passare le tasse avremmo potuto fare infrastrutture insomma tantissime cose che ho avuto modo di elencarvi nei miei ultimi video quindi davvero ci abbiamo guadagnato pochissimo mentre invece l'Europa spesso ci ricatta ad esempio nel Messe come vi stavo dicendo se noi volessimo uscire dal Messe non lo possiamo fare perché l'Europa a questo punto ha già deciso che ci sarebbero sanzioni e che soprattutto i paesi che non aderiscono al Messe non potrebbero poi in qualche maniera usufruire di determinati benefici mentre la cosa bizzarra è che su altre cose tipo l'immigrazione se ad esempio paesi dell'est europeo ma non solo anche del nord europeo ma diciamo quasi tutti i paesi europei a parte qualche eccezione decidono di non prendersi in carico i migranti quindi non succede assolutamente nulla oppure in altre situazioni che abbiamo potuto constatare per quanto riguarda appunto la contraffazione dove non mi risulta che ci siano da parte dell'Europa l'applicazione di sanzioni e quant'altro e quindi la domanda veramente che mi pongo è quanto ci convenga rimanere in questa Europa poi noi sappiamo perfettamente che purtroppo e io continuo a ripeterlo che 18 anni fa nel 2001 un certo romano Prodi ha svenduto questo paese nel momento in cui ha accettato di fissare a 1936,27 il cambio ed è un vero cappio al collo è quello che in questo momento non ci permette probabilmente di uscire dall'Europa perché voi potete soltanto immaginare se dovessimo tornare con questi parametri alla lira quanto ne soffrirebbero le nostre esportazioni che sono un po' il motore dell'economia italiana e quindi diventa difficile anche prendere questa decisione però attenzione che già l'esempio dell'Inghilterra che pesa molto sull'Europa l'Europa ha cercato in ogni maniera anche addirittura di fare una cosa antidemocratica di spingere affinché si ripetessero le votazioni in Inghilterra sulla Brexit addirittura io ho avuto modo di assistere qualche settimana fa ad un confronto in Parlamento a Bruxelles dove si cercava appunto di vedere se ci fossero le possibilità di far ripetere questa votazione e a un certo punto è intervenuto un parlamentare della Lega che giustamente ha sottolineato ma scusate perché allora non ripetiamo la votazione che ha eletto il presidente von der Leyen estremamente legittimo così come domani potremo ad esempio immaginarci un cartello fatto dai paesi del Sud Europa da Grecia, Italia, Portogallo e Spagna che porterebbe sicuramente molti benefici soprattutto in certi settori quello dell'agricoltura, quello del turismo e anche quello dei beni culturali perché sicuramente sono paesi, Grecci, Italia, Spagna e Portogallo che da quel punto di vista hanno davvero cose straordinarie da far vedere al mondo e quindi è una riflessione che uno si può porre niente, ripeto, sono sempre più perplesso rispetto a un'Europa che ci dà molto poco che da noi pretende, che ci mette spesso spalle al muro e soprattutto in certe situazioni è assente come nella migrazione ma è anche assente nel momento in cui deve proteggere il Made in Italy con questo io vi saluto se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel pollice in su per chi non l'avesse ancora fatto iscrivetevi e ci vediamo prossimamente buona serata a tutti